Medici a confronto della Medicop Vesevo al Sakura Hotel di Torre del Greco per interrogarsi e per promuovere per individuare nuove strategie di trattamento e di diagnostica. Ci siamo riuniti specialisti, uno torino, uno pneumologo e i medici della cooperativa per creare un percorso comune, una sorta di rete assistenziale del paziente respiratorio. Delle alte vie respiratorie, nel mio caso il naso, e delle basse vie respiratorie, c'è un pneumologo che sta relazionato in questo momento, perché le patologie sono spesso concatenate. Un approfondimento sui moderni trattamenti terapeutici, sui nuovi protocolli, ma soprattutto sulla rete che l'ospedale può fornire al territorio. Siccome siamo, mi permette di dire, con un pizzico di orgoglio all'avanguardia strutturale, perché sia l'ospedale Maresca, che da tre anni di riggo mi ha dato una serie di opportunità e di locali per poterlo fare, abbiamo attrezzature che allo strato attuale consentono all'utenza di avere un trattamento di primo livello e vale anche per i pazienti della premologia di Bosco Trecase, dove sono attrezzate. Quindi era anche comunicare ai medici del territorio cosa facciamo, cosa faremo. Quindi i nostri non sono progetti. Noi abbiamo dato delle date, degli orari in cui il paziente può afferire e di cose che già abbiamo in essere. La giornata di oggi era sui pazienti anziani e fragili, cioè il paziente che per esempio non è sottoponibile a procedura chirurgica per le poliposi nasali, per la patologia nasale, oggi con l'avvento dei farmaci biologici ci consente con un trattamento a rischio zero di poter gestire patologie nasali e asmatiche con un unico trattamento terapetico e quindi il protocollo andava, secondo me, illustrato al territorio per capire, anche qui non come progetti, al Maresca abbiamo già oltre 70 pazienti in terapia. Quindi abbiamo illustrato i risultati già ottenuti e ci faceva piacere condividerlo per implementare e per offrire un servizio alla popolazione. Spesso pazienti con patologie come quelle può essere delle patologie respiratorie o delle vie alte, quindi nello specifico delle poliposi, vengono purtroppo dirottati anche dai nostri colleghi presso altre asole come sempre la Napoli 1 o addirittura fuori regione perché purtroppo non si conoscono le strutture idonee e capaci di risolvere queste patologie. Cosa di cui noi invece siamo in possesso. Quello che molto spesso è misconosciuto è che abbiamo sedi dove poter affrontare e trattare queste patologie, nello specifico l'ospedale Maresca. Se i nostri vertici non propongono e non si prospettano nei messaggi di comunicazione un po' più ravvicinati con i diretti interlocutori è chiaro che poi le cose vanno in una certa direzione. Abbiamo parlato delle connessioni asma e poliposi nasale, due patologie così importanti e così correlate tra loro perché il paziente diciamo che soffre di poliposi o quasi nella stragrande maggioranza dei casi diciamo poi è un soggetto che presenta anche asma bronchiale. Per cui le due entità non vanno trattate separatamente ma con scelte terapeutiche combinate tra gli specialisti coinvolti. Questi pazienti diciamo affetti da asma bronchiale e poliposi nasale non dovranno più andare diciamo in altre strutture ma restare nel nostro territorio perché diciamo l'ospedale di Torre del Greco e l'ospedale di Bosco del Caso hanno tutta una hanno allestito tutta una strumentazione e un'equip medica in grado di gestire queste patologie al meglio.